dopo il no di conti l'offerta a beppe fiorello la rai si è concentrata su baglioni nelle ultime ore si è lavorato ai dettagli del contratto in linea con la nuova polisi aziendale il compenso dovrebbe prevedere come per tutti gli altri artisti rai un taglio di almeno il 10 per cento rispetto al cachet percepito lo scorso anno da carlo conti si parlò di 650 mila euro tra i primi a parlare della conduzione di baglioni c'era stato gianni morandi secondo me la rai con claudio baglioni ha fatto una scelta straordinaria dopo tre anni di conti due di fazio uno di morandi e uno di clerici baglioni è una persona preparatissima integerri ma gli faccio tanti auguri del cantautore aveva parlato anche antonio ricci non so se sia una bella notizia o no credo comunque che baglioni sia in grado di farlo il festival di sanremo diversa l'opinione di ricci sulla manifestazione canora a chi gli chiedeva se lo seguirà a risposto ormai è una roba da anziani e poi baglioni che canta ancora passerotto non andare via no proprio non ce la farei